Buongiorno a tutti, mi chiamo Ludovica Ressa e oggi vi presenterò la possibilità di partecipare al programma Erasmus Plus Traineeship, parlando in particolare della mia esperienza personale e cercando di motivarvi a seguire il mio stesso percorso. Allora, io ho conseguito nel 2015 la laurea trenale in Scienze e Tecnologie Biologiche e sono attualmente iscritta al corso di laurea magistrale in Biotecnologie Molecolari e Industriali. Cosa mi ha motivato a proseguire il mio percorso di studi a Varese? Allora, innanzitutto per un elevato rapporto docenti-studenti, come è stato precedentemente detto dalla professoressa Marinelli, dall'offerta di una buona didattica e poi da una mia volontà personale di voler approfondire, continuare a trattare tematiche dei corsi della trennale. E poi anche per la possibilità di fare diverse attività di laboratorio, quindi in quest'ottica di sapere e anche saper fare. Allora, come ben saprete, ogni studente per completare il proprio percorso di studi deve effettuare un periodo di attività sperimentale di una durata non inferiore ai nove mesi e avete tre possibilità, o di farlo interno nei laboratori del Dipartimento di Biotecnologie oppure potete farlo in aziende o laboratori privati esterni all'Ateneo oppure, terza opzione, che è quella che mi riguarda e che ho scelto, è stata quella di effettuare un tirocinio all'estero aderendo al programma Erasmus Plus Trinici. Io in particolare ho svolto la mia attività di tirocinio nell'Università di Chimica e Tecnologia di Praga è un'università che collabora con più di cento universitanti pubblici in tutto il mondo ed è una dei più attivi partecipanti al programma Erasmus a livello europeo. Si tratta di un campus universitario che consta di tre edifici, A, B e C dall'immagine potete notare la dimensione dell'università e dico solo che vi forniscono una mappa per orientarvi inizialmente perché è veramente grande. Poi gestisce una biblioteca che è inserita in questo edificio che è il National Library of Technology e poi comunque per tutte le informazioni relative all'università potete consultare questo sito che ho inserito nella slide. Io in particolare ho svolto la mia attività di laboratorio nel laboratorio del professore Thomas Brownick. Mi sono occupata direttamente di microalghe e ho condotto diversi esperimenti di floccolazioni e anche qui ho riportato delle immagini che riguardano il mio lavoro. E anche qui è stata un'attività dal punto di vista formativo altamente qualificante, il mio professore si è sempre reso disponibile, poi è stato bello trovarsi in un ambiente di internazionalizzazione e poter confrontarmi quotidianamente con persone provenienti da tutta Europa, quindi non solo studenti Erasmus, ma ricercatori, postdoc. E quindi è stato molto interessante come esperienza. Allora, cosa rappresenta realmente un'esperienza Erasmus dal punto di vista personale e relazionale? Allora, secondo la mia esperienza personale, per diverse buone motivazioni, secondo me vale la pena intraprendere un percorso di mobilità internazionale anche di breve termine. Allora, innanzitutto, nel bene o nel male, è un'esperienza che comunque ti fa crescere, perché vi trovate all'estero da soli e dovete comunque farvi da... cioè dovete mettervi in gioco, dovete gestirvi le proprie giornate, dovete destreggiarvi con una nuova lingua, pensare a spesa, bollette, cose così, che non è da poco. Poi, ti rende audace, già solo il fatto di fare una scelta del genere, quindi di andare all'estero, ti rende intrepido. E poi vi... indubbiamente alla fine ne guadagnerete in termini di autoconsapevolezza, fiducia e autostima. Da un grande senso di libertà, poi vi permette di scoprire se stessi, vi aiuta a scoprire quali sono i vostri punti di debolezza, ma ovviamente quali sono i vostri punti di forza. e comunque lontano dai genitori, dagli amici di sempre, vi trovate a dover, come dire, imparare a superare gli ostacoli da soli. Quindi è un'esperienza di vita che è molto impattante, diciamo. Poi, indipendenza, quindi vi trovate lì da soli, quindi anche lì siete indipendenti. Divertimento vi dà la possibilità di partecipare a diversi viaggi organizzati e di conseguenza anche di conoscere persone di diverse nazionalità con le quali confrontarvi ogni giorno, quindi chiacchierare, scherzare insieme e migliorare le vostre capacità linguistiche, il vostro livello di inglese. Io l'ho migliorato tantissimo, tanto che anche il mio professore stesso me l'ha detto alla fine, prima di partire, mi ha fatto notare che ero migliorata anche con il mio livello di inglese. Quindi viaggiare, voglio sottolineare questo aspetto dello sviluppare nuove amicizie, perché veramente un'esperienza del genere ti offre l'opportunità di sviluppare amicizie in tutto il mondo. Quindi potete costruire amicizie durature che è bello mantenere e poi comunque vi trovate a vivere in una specie di piccola famiglia globale che poi vi accompagna per tutta l'esperienza Erasmus. Quindi è un'esperienza che ti cambia interiormente e che secondo me ne vale la pena fare. E io sono contenta di aver fatto. E rifarei, se potessi, ma non posso. Allora, quindi, considerati questi aspetti motivazionali, passiamo al come. Quindi come aderire al programma Erasmus. Allora, come è stato già detto in precedenza, ci sono due diversi programmi. Il programma Erasmus Plus Studio è il programma Erasmus Trinyship. Allora, quello che ho deciso di intraprendere io è l'Erasmus Plus Trinyship, quindi quello che vi dà la possibilità di svolgere un tirocinio formativo all'essero. E anche qui... E mentre nell'altro caso, nel caso dell'Erasmus Plus Studio, vi offre la possibilità di intraprendere un percorso di studi con la frequenza di corsi ed esami. Quindi sono due cose differenti e comunque in entrambi i casi bisogna partecipare al bando Erasmus. E qua vi ho riportato i link relativi appunto alla pubblicazione di questi bandi. La presentazione della domanda consiste in due documenti. Allora, il primo è il modulo di domanda online a cui va legato il cosiddetto Learning Agreement. Qua vi ho riportato la pagina dell'Erasmus Plus Trinyship in cui poi verrà pubblicato nel mese di giugno, indicato giugno 2018, comunque solitamente il bando è annuale e per l'Erasmus Plus Trinyship il bando è a giugno, per quello dell'Erasmus Plus Studio è a febbraio. Comunque avrete un mese di tempo per poter presentare la domanda, allegare il Learning Agreement, che è un documento che richiede la vostra firma, la firma del delegato Erasmus, quindi in teoria dovrebbe essere la vostra stessa macchia alla Bracale, e ovviamente la firma del supervisore dell'ente ospitante. e qui comunque troverete tutta la, come dire, la modulistica, le informazioni relative al bando, se volete, cioè volendo posso approfondire, posso continuare a spiegare? No, perché il giugno è venuto e hai preso già, cercate di essere un po' più... Comunque per eventuali informazioni riguardo al bando potete chiedermi tranquillamente, sono disponibile a rispondere a qualsiasi domanda. Ok, basta. Volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Ludovica, lei è il quinto studente che va in Erasmus Trainership a Praga, ed è per questo motivo, dopo un po' di anni di esperienza, di scambio di studenti con Praga, anche noi abbiamo avuto vari studenti da Praga nei nostri laboratori, che abbiamo deciso di attivare il Double Degree con Praga. Quindi il Double Degree è stato attivato l'anno scorso, in base proprio all'esperienza fatta dagli studenti in Erasmus, che è stata una buona esperienza di scambio. Quindi adesso diciamo chi va in Double Degree fa tutto l'anno a Praga e poi consegue il doppio titolo. Buongiorno a tutti, molti di voi mi conoscono già, comunque per farvi un breve riassunto, mi sono iscritta alla laurea triennale in Biotecnologie del 2009 e dopo qualche intoppo, finalmente nel febbraio 2013, sono riuscita a laurearmi pure io. Dopo... Sui intoppi chiedete poi. Sì, per quello chiedete poi. Dopo la laurea ho fatto sei mesi come tirocinio extracurricolare nel laboratorio di Biologia Cellulare e dopo ho ben deciso di iscrivermi alla laurea magistrale in Biotecnologie e Molecolari Industriali. Questo perché offriva un sacco di laboratori, ne ho dimenticato uno perché c'è anche quello di Biotecnologie Animali, ma ci ha permesso anche di andare a visitare delle aziende come sbocchi professionali, che potevano darci un po' di sbocchi professionali. Siamo andati a vedere degli impianti per la produzione di biodiesel, dove ci hanno dato queste bellissime tenute arancioni che ci si vedeva a chilometri di distanza. Siamo andati a vedere un impianto di produzione di biogas e in questo caso ci hanno anche offerto un pranzo a base di prosciutto e salame molto buono. E poi siamo andati a vedere con la professoressa Terova un'azienda in cui si fanno animali trasgenici, quindi si cerca di migliorare la produzione animale. Siamo andati poi con la professoressa Campomenosi a vedere il Tomalab, che è un laboratorio biomedico che permette di fare delle analisi prenatali. Dopo mi sono laureata anche qui, felicemente, con un bel 110 lode, quindi super felice, e ho iniziato a fare il dottorato in Biotecnologie, Bioscienze e Tecnologie Chirurgiche, che sto ancora facendo. Il mood del mio dottorato è questo, quindi sono un po' esaurita, però è un'esperienza che va fatta, soprattutto perché ci permette di sviluppare dei progetti autonomamente. Io mi occupo della coniugazione di molecole biologiche e nanoparticelle di ferro, che sintetizziamo nel nostro laboratorio, e che modifichiamo o con nanoantibiotici, quindi per aumentare l'attività microbiologica, per mettere un drug delivery, e per lottare anche contro le farmacoresistenze, oppure vado a legare degli enzimi, in collaborazione con il professor Pollegioni, per aumentare l'attività enzimatica, aumentare la stabilità termica, e soprattutto, la parte più importante, è facilitare la separazione e l'utilizzo dell'enzima in ambito industriale. Partecipare a un dottorato ti permette di avere delle pubblicazioni su riviste internazionali, quindi di farti conoscere anche all'estero, di partecipare a dei congressi internazionali, questi, nell'ultimo a cui ho partecipato, ho avuto anche la fortuna di essere scelta come una dei migliori giovani ricercatori, quindi ho ottenuto questa bellissima targa, che appenderò la prima volta che riuscirò ad avere un laboratorio tutto mio. Ci permette di avere delle collaborazioni internazionali, sono stata all'Università di Saragozza, in Spagna, dove ho potuto conoscere delle persone stupende, e ho potuto aumentare molto le mie conoscenze, anche pratiche, andando a mettermi anch'io in gioco, con un progetto Erasmus, però comunque si trovi in una città dove lo spagnolo è molto simile all'italiano, ma nessuno parla inglese, ad esempio a Saragozza nessuno parla inglese, quindi ti trovi un po' catapultato in questo mondo completamente diverso. Quindi io vi lascio con questa slide, che è molto rapida, vi chiedo perché non fare BMI, cos'altro potete fare, insomma. Grazie. Super rapida. Eh sì, magari sì. Sì, sì, no, sono brevissima. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Ilaria Losa, volevo raccontarvi brevemente la mia esperienza. Sono laureata nel 2010 in biotecnologie, avevo in quell'occasione già scelto il curriculum processi e produzioni biotecnologiche, perché fino all'inizio sono stata abbastanza interessata ad approfondire, diciamo, il filone industriale e l'applicatività delle biotecnologie. Dunque, ho scelto la laurea magistrale in biotecnologie molecolari e industriali, mi sono laureata nel 2013 e dal gennaio 2014 faccio la microbiologa in un laboratorio di ricerca dell'Agnosis S.P.A. L'Agnosis è una industria farmaceutica del gruppo Lesaf, che è un grande gruppo industriale che si occupa principalmente di produzione di lieviti e di prodotti derivati da lieviti. L'Agnosis in particolare ha sede operativa ad Esio e due stabilimenti produttivi. In quello svizzero si occupa principalmente di prodotti nutraceutici, mentre in quello di pisticci del biofarma. Qui vi ho riassunto brevemente alcuni dei prodotti Gnosis nell'ambito della nutrizione. Ad esempio, si produce mitocondro, che è la prima condroitina non animale che deriva da un processo di fermentazione brevettato. e, ad esempio, c'è il Quaterfolic, che è un integratore a base di acido folico, molto importante durante la gravidanza. Per quanto invece riguarda il settore biofarma, abbiamo prodotti derivati da lievito e, in generale, da batteri, come vi dicevo, in produzione in basilicata. Io lavoro nel laboratorio di microbiologia, sono una degli otto ricercatori. Abbiamo tre laboratori, sono due dedicati alle colture cellulari e un laboratorio molto ben attrezzato di biologia molecolare. Sempre nella sede operativa di Desio, ci sono un laboratorio di analisi, un laboratorio di sintesi, un laboratorio di estrazione e un'unità di fermentazione che si occupa dello scale down e del design del processo fermentativo prima di essere trasferito in industria. Che cosa si fa in un laboratorio di microbiologia? Cosa facciamo noi in particolare? Noi ci occupiamo dell'isolamento e del mantenimento dei ceppi. Produciamo banche cellulari, conservate congelate oppure oleofilizzate. Abbiamo una ceppoteca piuttosto vasta che comprende microrganismi di svariate tipologie. Abbiamo coli, lieviti, attinomiceti, insomma un bel po'. Ci occupiamo della messa a punto dei processi fermentativi, dalle condizioni di inoculo al design del terreno, alla fine all'estrazione del prodotto, tutto in vista poi dello scale up in fermentatore e in industria. Facciamo mutagenesi e selezione di altri produttori con sistemi high throughput e come vi dicevo, avendo un bellissimo laboratorio di biologia molecolare, siamo anche abbastanza esperti nella produzione di organismi geneticamente modificati. Più o meno facciamo questo. volevo parlarvi di come secondo me ha impattato la mia laurea in biologia molecolare e industriale in quello che faccio oggi. Secondo me sicuramente sono arrivata con un ottimo livello di formazione teorica, questo di sicuro. dopodiché le esperienze in laboratorio, sia attraverso i laboratori didattici, ma soprattutto con il tirocinio, mi hanno consentito di apprendere delle tecniche, e questa è sicuramente una cosa ottima, ma anche di calarmi in una mentalità che mi ha consentito di arrivare in un laboratorio, di arrivare in un laboratorio industriale, sapendomi muovere sia proprio fisicamente che anche proprio nel design dell'esperimento, nel arrivare a centrare lo scopo dell'esperimento. Secondo me questo è ben stressato all'interno del corso, quindi io posso solo che fare un bilancio molto positivo del corso di laurea e a tutt'oggi ne trago ancora benefici. Grazie. Grazie.